Musica No, lasagna d'estate Lasagna d'estate con 40 gradi Te prego, dimmi che non c'ha Che non c'ha i latticini La Sparati a 1000 Mamma mia, Ragnar Che gioca, è chill Un bacio a mia sorella Il gladiatore Il gladiatore, mio fratello Non ti devono vendere Non ti devono vendere, non ti devono toccare Ma perché c'è sta bove così Dar nulla A Fiorentina, a Juve, l'Inter Ok Il Bologna Il Bologna Ma ragazzi, ma Jay Pata si è girato tutte le squadre della YouTuber League Ma non è possibile Cioè, Jay Pata ogni volta è in una squadra diversa in YouTuber League Ma è peggio di Gilberto Il Nano Che caldo, fricato Già, la casa Ok ok, lasagna la vedo in vestitina bianca chill Brava Brava ragazza Fa' la dura un'altro po' a schiava l'intro, zia Ascolti Salve a tutti ragazzi e bentornati qui Salve a tutti Lo scorso anno da sei Siamo passati a otto E quest'anno ne abbiamo giunta una Oh, Mono E io non lo sai vero L'aveva detta la roba che aggiungeva la squadra Zia Che è tra l'altro Chi è? La prima squadra ufficiale Ad entrare ufficialmente Nella La YouTuber League e Summer Cup Vi spieghiamo tutto tra poco Intanto vi presento la protagonista di questo torneo Che è la Lellas Verona La Coppa Io sono andato a comprarla Ve lo dico Ma mi sono fatto accompagnare Lellas Verona Cioè Lellas Verona Quella Lellas Verona Quello con Rubino E player e sport È il mio cugino Per scaramanzia Non la tocco Non esattamente Non la vinco lo stesso Però ci si prova Insomma questo è Vedete anche la struttura meravigliosa Sulla quale è posata Nuove squadre E quindi struttura molto particolare Che vi abbiamo presentato su Instagram Dove vi ricordo di seguirci La struttura Spalmata su tre giorni 19, 20 e 21 luglio Noi siamo qui a Roma Al centro sportivo Borea Sborreale Sì ok E ringraziamo per l'invito E per il supporto Per questa nuova edizione Verrà divisa in nove partite Tutte oggi Il primo giorno Ma voi le vedrete in due video Per quella che sarà La fase a gironi Porco Dio Dopo i gironi Passano tutti Sì Vabbè Frate È il torneo dei Tekken È il Ma che è Sì porco Ma che è Space X No 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 Spiegamolo te Marco se sei buono a spiegarmelo Ma chi se Chi io vuole capir C'ho voglia Sì ma ovviamente Fusikuro Megumi Grazie per il livello 1 Benvenuto Benvenuto Te la classifica Un suo peso Chi arriva prima Nel girone È già qualificata Ai quarti di finale Li chiamiamo così Anche se sono tre partite E non quattro Mentre la seconda Dell'ipotetico gruppo A Affronterà la terza Del gruppo B In uno spareggio E così a scalare Prima domanda Chi prende decisioni Mirko Mastro 5 Ah quindi si può Si può anche staccare il video Adesso Seconda della B Contro la terza del C Seconda del C Contro la terza dell'A A quel punto Chi vince Va ad affrontare le prime In questi quarti di finale Che come detto Sono tre Chi passa va in semifinale Ma Mancherebbe una squadra No per formare I due incroci Delle semifinali Quindi la quarta Come si calcola questa squadra Si fa uno spareggio Tra le due migliori perdenti Dei quarti di finale E quindi quelle che Per differenza reti Hanno perso Con lo scarto minore Sostanzialmente Chi passa È la quarta semifinalista E il terzo giorno Nel penultimo video per voi Vedrete appunto Le due semifinali E poi Finale terza e quarto posto È finalissima Questo per fare un punto Ma tanto lo sapete Alla fine la cosa migliore È scendere in campo Le equazioni di secondo grado Sono più facili Quando si parte Man mano Capite tutto Quindi io prima Di presentare Le rose Anche perché non lo farò Io ma Lo farà qualcun altro Anche perché dobbiamo Sorteggiare ancora I gironi E lo faremo a brevissimo Ringrazio di cuore Gillette Per aver supportato E dato vita Sono stato Oddio La nuova Nuova Nuovo sponsor Sanzialmente Alla Sponsor di Xiuderone Youtuber Summer Cup Siamo onorati di questo Ma adesso Chiamo accanto a me Non una Ma due Spalle d'eccezione La prima È ormai la padrona di casa L'altra una new entry Lasagna E Alice Muzza Benvenute Buon Aspetta Aspetta La conosco La conosco La conosco Ah cazzo Ma è La ragazza di Campolunghi Buon poveriggio Buon poveriggio Ah 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 C'è L'emozione Vabbè ma ci sta Ci sta È bello È la mia prima volta Ho rispetto per la ragazza di Campolunghi Di Long Camp Non mi non fa di maiali in cia La tua prima volta Come Cioè è meglio da dentro o da fuori Eh per come sono io caratterialmente Meglio fuori Però tu adesso Però oggi cercherò Di farcela Tutta Di mettercela Guarda Tu l'importante è che ti metti Proprio una ma Adesso sei un pochino timida Vedi i giocatori Stronza Mettili in difficoltà Fai domande Cattive Questo è Mi aiuterà a lasagna Sicuramente Facciamo una cosa Sono scaramantico Posso mettermi in mezzo Ragazzi L'ho contate Per la prima volta Mi sono detto le conto In dieci secondi Lasagna ha fatto nove facce diverse Porco La sa Non stai a cercare Prendi il posto Per il remake De Psycho A Hollywood Sio porco È una roba allucinante Sì perché hai paura Di stare vicino alla coppa Che ti influenzi male È una roba Mi rimane solo la scaramanzia Tu quindi fai il tipo per la Juve No oggi Oggi devo stare Giusto In parziale In parziale Ok Ciao Roma Benvenuti Alla Prima volta all'interno Di queste competizioni E questo giocatore È Off Samuel Quindi Io voglio Che facciate Un Ben Se fai il tipo per Roma in Milan Super caloroso Se ti fai il tipo per Milan Stai YouTube al Summer Cup Con il numero 10 Con il numero 10 Off 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 Ben tornato Benvenuti ai sorteggi Della Summer Cup Della Summer Cup 2024 Questa volta Li faccio io i sorteggi Perché Federico Ha scelto di essere lui Il capitano della Roma E quindi si sente più capitano Che presentatore di questo torneo Quindi è giusto che qualcun altro Dovesse prendere questo impegno E lo faccio io E lo fa Dried Barrel Ma ci tengo a chiamare Le due madrine Di questo evento Le due madre natura Ma della Summer Cup Va bene madrine Non esageriamo Mirko Ma a me piace La prima è Lasagna La solita Lasagna La sempre buona Lasagna E l'altra Chiedo di venire qui Con le beate palline Da cui faremo il sorteggio Lasagna gli ha fatto lote L'ha decantata Alice ha chiamata l'altra A mafioso anni 80 Un applauso per Alice Muzza Io intanto sposto questa coppa E facciamo appoggiare Le Dragon Ball Federì Ma scusa Abbiamo fatto tutto azzurro Abbiamo fatto le palline arancione E' finito il budget Va bene lo capiamo No non è possibile Federì Questa è la YouTuber Summer Cup Non è la Goat Un testa di nascemenza L'abbiamo sgamato Lo capiamo Alice io ti chiedo Di venire qui al centro Perché tra i due La più bella sei tu Quindi Io mi metto di lato Possiamo ritagliare Alla fine Mirko mi spiace Ma questo non era da specificare Quante acuta oggi Va bene Ad ogni modo possiamo iniziare questo sorteggio Ma io chiedo A Lasagna Di sentire il capitano dei campioni in cavica Giustamente Andiamo da Brogna Capitano del Milan Mi fa troppo rite Brogna Guarda che faccia Brazzo crew Spalmente capitano della squadra Che detiene il titolo Allora Brogna Come stai? Come stai? Allora siamo carichi Lo scorso anno Io non ho meriti Perché non c'ero E forse è stato questo Il segreto della vittoria Per vedere se siamo veramente forti Quest'anno abbiamo usato E quindi giocherò anch'io Se si vince quest'anno Vuol dire che siamo veramente fortissimi Quindi forse è meglio Che stavi a casa no? Ok Clippate ragazzi Salutiamo la lasagna del futuro Che chiederà scusa a Brogna Ma vedo Clippate Ma è in video di YouTube Brogna T'apposto? Tremo io lo spero Andiamo a fare comunque adesso Il sorteggio Dei primi estratti del girone B E chiedo Alla sempre bella Alice Di pescare una di queste palline Puoi mescolare Puoi fare quello che vuoi Roma Oh Vi chiedo al pubblico Di incitarla Dai Estraiamo E l'estrazione dice che Bologna Oh A sto punto Io in quanto chiamandomi lasagna Non potevo che andare per prima Dal Bologna Con il critico Siamo quest'anno Si può sempre solo migliorare Peggiorare fa fatica Abbiamo estratto questa pallina Chi è secondo te? Ho la sensazione che sia la Juventus Oh L'hai detta eh Ce l'aspettiamo adesso No frate Bologna Bologna Lazio E' chittata E' la prima del giorno C Estratta E' No Sono Verona Oh Mamma mia si schippa Si schippa la partita Ottimo Il video dura di meno Debutano Nella Summer Cup Nella Svevona FC Pierino non la prende bene Li voleva nel gruppo suo Andiamo subito Andiamo subito Con il capitano Della prima squadra ufficiale A entrare in YouTuber League Vai dici tutto Tizio Dov'è Caio? Che spettacolo Wow E' importante Perché andranno a finire Nello sbattato Assieme al Milan Ok E Oh La Lazio La Lazio Ti ricordi che cosa è successo L'anno scorso Vaffanculo Lazio Lazio Vaffanculo Troppo male in caldo Lazio Lazio Gigi almeno il podio quest'anno lo puntiamo? Ma diciamo che abbiamo partecipato ovviamente a tre edizioni Secondo posto Terzo posto Quarto posto Quindi oggi quinto L'hai detto tu Cioè ti testo L'hai fatto tutto tu eh Le statistiche dicono questo quindi Girone B Oh 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 La leggo La leggo E' lì E' la Juventus Eccola Juventus nel girone B Giustamente Ah ma ragazzi Ma ho schippato il Milan L'hanno schippato Saltando quello dell'Elas Verona Zio porco Ha tirato Ah quindi Milan Lazio Nello stesso girone Ovviamente a Juve nel girone Quello delle squadre de merda Zio porco Andiamo a sentire subito Capitan Chinoshi Che giocheva la seconda partita Quella Pologna Juventus Capitan Chinoshi No il Milan era già nel primo Gio 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 Ah il Milan vincente Era già girone A Ah ok Che evidentemente Non ha voglia a rigiocare Lui si è già presentato Scari da sole Scarpe la ginnastica Pronto per andare a casa Ok Scari da sole Vediamo chi mi odierà Ti nosci grazie L'Inter Ma sono contento che mi odi allora Guarda come Inter con l'Elas Verona Che bucio Ponente del Milan Ci tengo a ricordare le mie radici Gnabri ti ho visto anche esultare Dopo essere uscito Come mai Non pensi di essere più forti del Verona Solo perché non ha mai giocato? No no Perché affrontare squadre nuove È sempre bello L'anno scorso a Fiorentina È andata bene Quest'anno l'Elas Speriamo altrettanto bene Non avete paura dell'ignoto? No perché Tanto so con abbastanza sicurezza Che andremo in finale anche quest'anno Quindi mi importa quello Ma andrete in finale anche Senza Jay Pata? Eh Andremo contro Jay Pata Speriamo Bene Nell'infografica avete visto Ma però attenzione Perché nel Bologna gioca Jay Pata Che su sti campi Fa i buchi No frate Tocca un filasse nel girone C Roma nel girone C Col Verona e l'Inter Ok queste sono le tre partite Tra l'altro sono le tre partite Di questo primo video Tocca evita assolutamente Il girone B Io della Summer Cup Sono appunto Mila Lazio Bologna Juventus E Inter Verona Ma adesso andiamo a estrarre Quelle che riposano In questo video Ma che le vedete nel secondo Perché nel secondo Ci sono sei partite Alice Andiamo a pescare La terza estrada Quella che riposa Al primo turno Nel girone A E l'estratta è La Fiorentina Il capitano Ogni santi Che sperava Di non essere La Fiorentina Una squadra di buste Di merda Porca troia L'ultima volta Vanno fatto Mamma mia Federì Lava te Zio porco Dopo Ina ed è Il Napoli E nel girone C Assieme Alla Verona Che un po' Non se lo chiamava Malconi Perché l'ho presentata Recentemente su Instagram Se l'avete seguita Bologna E Juve Fius Come la vede Voi di solito Non avete mai paura Di niente Buono Buonissimo Appena volta Almeno Napoli C'è anche la Juventus Che abbiamo qualcosa In sospeso Ma la butto lì Però ho capito Si parla di Youtuber League Si sa Quando hai Youtuber League La Summer Cup È tutta un'altra storia Brava Ti sei preparata Come sono contento Anche io Ben tornato Sono molto contenta Anche di parlare Adesso con Federico Marconi Organizzatore Nonché Capitano della Roma Sei contento Di essere contro Verona Inter Onestamente Sì Bravo Federico E dillo Perché sono molto curioso Di affrontare i nuovi arrivati Ai quali ridò il benvenuto Secondo me saranno una squadra Molto tosta Da affrontare Li vedo abbastanza completi E poi L'ultima volta Che ho affrontato l'Inter Andavo Alle medie Quindi Sono contento Che finalmente Rivediamo Roma-Inter Che è sempre una grande classica Del calcio italiano E fallo dura un altro po' E vai Oddio queste sono tutte Formazioni Arbolante Milan Ragnar Zoccolo Nerson Bucci Samuel Off Samuel Rilazza Brogna Inter Dile Isaac Raimondina Gilbert Nanana E l'Inter E Matosci Andrea Madonna l'Inter Ragazzi Ma che è l'Inter Nozi Fortissimo Napoli Dario Superale Lansciale Mattio Mirko Simone Crispo Fius Lazio Vlad Stramacci Nemos Lorenz Vabbè Lazio Fate la solita A Roma Pechini Pellegrino Sì Quolf Boss Del freestyle La cacca Rapolla Sergio Cruz Marconi A Fiorentina Boh Non ne conosco uno A Juve Istaghi Per la maschera Niko Lavoro De piede Pipega Giastron Campolunghi Chi ne è Juve pure Buona Juve Inter Sono più forti Bologna Fene Morleo Che cazzo è Il boss Della tecnica Ma che cos'è Ma che Ma ragazzi Ma perché nel Verona C'è Federic 95 Oh Teresa Sì Ma cos'è Perché c'è Federic Nel Verona Che cazzo C'entra Ma ragazzi Il boss Della tecnica Contro il boss Del freestyle È tipo il derby No fateli scontrare Ve ne prego Ma Che Suss E quindi signori Post sorteggi Pronti a raccontare La prima partita Che mi ha Lazio Accanto a me Per questi Gironi C'è Peppe Di Giovanni Benvenuto Beh Un'atmosfera Devo dire Che mi ha Ma ragazzi Peppe Di Giovanni È palesimente Il twitterino Base del Roma Twitter Che boh Se metta in surta I napoletani Ha volto E rientra anche per il Milan C'è mancato tutta questa Youtuber League Of Samuel Come stai Sam? Tutto bene Tutto bene Dai Per me è un grande Piacere di tornare Perché non vedevo l'ora Stare a casa A dover solo guardare Su Youtube Quello che succede Non mi piace Tu sei stato l'unico Marcatore della Lazio Dell'ultima Frate Savage Savage Frate il profumo Fa una marea Ho visto Su TikTok A volte mi spawna Che fai video Contro Per andare a fare 100 tiri Dove insulta Ragnar Se ti fa per solo Gole suoi Ultima volta che abbiamo visto Milan Lazio In Summer Cup Qual è il segreto Per segnare a questa squadra? Non avere caldo Il caldo c'è Si sente Si percepisce Però siamo carichi Siamo carichi E vogliamo riconfermarci I campioni Sì Anche perché Ultima volta che tu Hai giocato in Summer Cup Avete perso la finale Bisogna dire Tutto 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 Cioè Uno anche Non ci pensa Si dimentica Invece Uno scrive Mastezzine Frate Si esatto Il genere femminile Tende ad avere Il seno E tu ogni volta Che vai a pisciare Ti tiri giù i pantaloni Fai Che cos'è quello? Ti spaventi ogni volta E vedi il tuo cazzo? Porco Dio C'è lasagna Che Comunque si Ma allora Io mi sono giocato Una cosa importante Nel senso che l'anno scorso Brognano Ma Steve Ma vaffanculo Dai ma me dispiace Non ce la faccio proprio A sentimi la nissima Li tifo ma non gliela fa Arcelan prima di tutto E poi magari portare a casa Il risultato Ci sono stati anche dei cambi A livello di squadra Per esempio il vostro portiere storico Dice system Non gioca più in porta Ma starai a centrocampo A quanto capito E ci sarà un nuovo portiere Vlad Giusto? Esatto All'udito vatte Vaffanculo Se a merda Dessa società Te odiamoci Lo dito merda Lo dito merda Lo dito dirchio Spenni sti sordi Spennili tutti Tirali fuori A merda A sorci A merda A curva sud Fa cagà A merda La summer cap Di tre anni fa Ci faccia vedere Comunque l'ho visto abbastanza Ammazza Quanto parli Zio porco Ah ancora che parli E noi dai Non ci lamentiamo E allora Entrano in campo Per dare inizio Alla youtuber summer cap 2024 Milan e Lazio Mamma mia rag Mamma mia Aiuto Ma come sti sottotitoli Comunque Mi hanno detto Che l'Ellas Verona È la prima squadra Di serie A A rappresentare La squadra Che gioca In youtuber summer cap Che cazzo significa Scusa Nel senso che È come se hanno Hanno fatto il team Proprio Di sport Ma non è in sport Per giocare La summer cap Cioè quindi Teoricamente Dovrebbero essere forti Cioè se siamo Piati vinculata La fine Si parte Il calcio d'inizio Del Milan È cominciata ufficialmente La summer cap 2024 Quarta edizione E subito Brogna Con deviazione Risponde Vlad Occhio perché Ragnar È senza guanti Anche oggi Mamma mia Ragnar senza guanti Occhio che c'è campo Subito per Ragnar C'è campo subito Per Ragnar Che è andato a calciare È folle È folle I portieri saranno Ma che è sta palla Ma sei disgustoso Ma occhio perché Sbaglia l'impostazione Savas Brogna per Nelson Parti opposta a Samuel Dribbling E palla per Samuel Che la mastica E quindi torna a Roma Poi Nelson in copertura Savas vuole farsi perdonare Non mola Nelson C'è Gigi Confusione Telecamera Non c'è fallo E quindi gioca il Milan Con Nelson Che aspetta Brogna Lo serve Brogna forte Deviazione rimessa a Milan Qui forse poteva starci il fischio C'è stato un contatto Ragazzi Nelson Nelson non era così forte Che cosa gli hanno dato? Pierluigi Collina Gigi Appoggio vicino Si muove Savas Ok perché rischia Lorenzo Roma Di fisico Nelson Arriva anche Samuel Nelson prova la giocata Donna Nelson Una bestia Rimane in colla dal piede Poi arriva Samuel Vicino Brogna Dentro Nelson Samuel attende E poi Ragnar Che è sempre una buona idea Ragnar Vlad La tiene lì È iniziata la Summer Cup Ha calciato in porta Ragnar Possesso Lazio Porco Dio ragazzi Ma fatemela rivedere È sempre una buona idea Ma l'ha stoppata Ragnar Ah no pensavo l'avessi proprio presa Tipo con la golla La tiene lì Gigi Che prova a ripartire sempre dal basso Sicuramente sta tenendo molto di più la palla La forza E qui ha risposto bene Si era mosso a destra Lorenzo Roma Ragnar Senza guanti Alla Ragnar A dire di no Allora Nelson che è bollente Il movimento di Nelson Secondo pallo zoccolo C'è anche dentro Capitan Brogna Ma anche se te stassi antipatico Ma a chiamarlo zoccolo Mi sembra esagerato Vlad lascia lì Nelson non calcia Poi forse sì La difende Salta il portiere Contatto 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 Ha fischiato o no Non credo Ha fischiato o no È calcio di rigore È calcio di rigore per il Milan Ha preso pieno Gli ha portato via la gamba Calcio di rigore per il Milan Se è palesemente lanciato Fratece non cascheresti mai Se ti prendessero il piede così Ah mi sa che è rimasto lui Off Samuel Contro Vlad Sotto la curva Nord Samuel È tornato Off Samuel Si è sbloccato dalla Summer Cup 1-0 Milan E poi va dritto A salutare Edoardo Bove Che è qui 1-0 Milan Lo aveva deciso subito Perché guardava quell'angolo Off Samuel va a salutare Edoardo Bove È troppo preso però A fare le foto Con i bambini Sì E niente Non c'è saluto Però poi Stretta di mano con Cyberman Lì Precisa Elegante Sexy Lorenzo Roma Gira su Vlad Stramacci E ricordiamo Non la perdiamo È in urbe Questo Cristiano Bravura Ancora Stramacci Lo salta e la difende Sino in fondo Lazzà Vlad Col piede Grande risposta A Giovanna Non sono venuto qui A innamorarmi di una donna Ma mi sono innamorato Di Lazzà Occhio al tacco di Brogna Samuel dribbling Ma ci sono io Ma perché Ma non mi ricordo Ad essere stata Alla partita Ma Non c'è nulla Allora vada Da parte opposta Vado ad aprire Mane Passacino Mica male Però Ed è anche l'ultimo Atto del primo tempo Brogna Non c'è bisogno Di grande velocità Di grande forma Un tocco esterno Tacco li manda in porta E avanti il Milan 1-0 Decide il rigore Di Off Samuel Come sappiamo Sei MVP Della scorsa Summer Cup Grazie ai tuoi Fantastici gol Da portiere Oggi ho visto Che ci hai riprovato Qual è la tua intenzione Per questa Summer Cup Allora la mia intenzione Più che far gol Che vabbè Quello è più Un plus È tenere la porta inviolata Bisogna prendere un po' più di coraggio Credo che la prima partita Sia sempre quella più difficile E Specialmente oggi Per il caldo Vabbè ma il caldo C'è sempre stato Lo devi tenere in considerazione No 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 Bisogna rimanere concentrati È un po' l'unione La squadra Guardate Non c'è bisogno Che dico altro Mamma mia La tua barba Mi ha sgocciolato ovunque Si ricomenta Ampiti chi ci sta Alla ricerca di Nemos Ciao Secondo tempo 1-0 Per il Milan Nemos ATT Sus Cross Per Elston Che era solo Era solo Qui può fare tutto Fede Può fare tutto Può anche Mamma mia I piedi montati Al contrario Zio porco È il problema di Nerson Fra te suoi piedi Trollare Si fa prendere dal panico Occasione gigantesca Porta 11 Era gol Poi di quello che puoi È un fatto Ricky Gervais Ricky Gervais La gioca su Will Smith Will Smith Bellissimo In mezzo Bucci Vlad Che palla ha dato Nerson Che palla ha dato Nerson Al ritmo del rap Alla Rafa Leao Ragazzi ma Non Cioè frate Ma questo ce l'ha scritte Su un diario Le frasi che deve dire Mamma mia Guarda 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 come va Guarda come va Fede Guarda come va Guarda 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 è pazzesco Non è soltanto un calciatore Cioè in realtà è la cosa più lontana Da un calciatore Si è intravisto alle sorame Una cosa clamorosa Pensa se ci provassi io A fare una cosa del genere Ti stireresti Ma vestire l'era è la migliore delle ipotesi Mi rincontro Ragnar Piattone deviato L'ha fatto subito L'ha fatto subito È tornato Ragnar È 2 a 0 Per il Milan Talmente sicuro Di essere il più forte Di tutti Intelligenza artificiale Mi tagli tutti tranne Ragnar e Harry Laza? Ok, grazie, intelligenza artificiale Perfetto, abbiamo la copertina di God of War 3 Signori, è pazzesco Eccolo qui Dopo un paio di avvenimenti Kratos torna con suo figlio Un'altra volta Pazzesco, è preciso Se la mettevano come la copertina dell'ultimo God of War Signori, andava benissimo Era pazzesca Talmente sicuro di essere il più forte di tutti Guarda come ti guarda Osservazione del Ragnar te fa Superiore E facciamo calcio E fanno calcio Non vedevo, non vedevo Questo fomento dai tempi di Dave Batista La Batista Bomb Comunque non era facile Non era facile perché l'ha fatto di sinistro Dovendosi piegare su una Occhio perché la curva nord Chiede gli attributi alla Lazio Siamo solo alla prima partita Manca pochino Vedo Collina che consulta il cronometro E infatti È finita Il Milan Merda Burini Avete scagliato Merda Guarda le sora come vi esulta in faccia Stanno facendo quello che sanno fare meglio Vincere e non superare Gigi Cosa non ha funzionato in questa partita? Siamo mosci Tanto mosci Cioè non ho visto gattiveria Non ho visto voglia Direi che per te è ricominciata alla grande Vabbè dai Ce ne faremo Sono felice Sono felice Sono felice Contentissimo Ma l'importante è che siamo riusciti a portarcela a casa A vincere Eccoli Secondo me è Bologna Gli rompe il culo Capace Come ti senti? Allora Che cos'è questo duo? Che cosa sto vedendo? In tutte le edizioni precedenti Non ho partecipato Perché ero in vacanza con te Non ho mai giocato a calcetto a 5 Però in teoria Si dovrebbe correre di meno Quindi Tanto meglio È un po' il tuo gioco Correre di meno Vero? Ma scusa Ma L'avete messa qua per pigliarmi per il culo Sai che sono juventina Quindi mi aspetto almeno un gol In fuorigioco Convalidato però eh Perché se sei juventina Così eh Tudor Lons Sborra senza conservanti Bentornati Alex Paul Neon Bentornati Quindi devo fare un gol e dedicartelo Cioè questo che vuoi No è che se non fai un gol Sai che stasera Quindi Vedi te Doppietta ragazzi Siamo carichi Siamo pronti Cosa? Davide il critico Cioè tipo questo me lo immagino Sbaglio in passaggio Se gira Tipo si ferma tutto Freeze di cosa Di borghese A quattro ristoranti E comincia tipo Comincia a camminare con le mani Così da dietro Comincia a fare Sì no Quel passaggio non mi è piaciuto No no Perché il movimento Perpendicolare del giocatore Non era fatto bene Siamo un po' avvelenati Dall'anno scorso Che caso Davide Devi stare più calmo Zio Ma poi sembra Tiago Motta La squadra sarà rivalsa Perché non ci piace come siamo usciti Lanno scorso No Pierino lo odio Non ce la faccio più a sentire Mente ai gironi Aspettative di questa Di quest'anno Eh quest'anno c'è il tuo ragazzo Quindi tocca alzare il livello Perché altrimenti Se neanche lui Ci porta in alto È un problema No Non ha senso È una frase che non ha senso Completamente Rendy Bentornata Vince Playboy Dabba Bentornata Non ha senso quello che ha detto Eccolo Fene Pronto a fare una bellissima Una bellissima prova Come in Got League Vola Fene 1, 2, 3 Bologna 1, 2, 3 Lume Quasi tutto pronto per iniziare Ok Una parte dei portieri Da una parte Insta Keeper Dall'altra Fene Primo pallone per il Bologna E si Bologna la chilla Il boss con qualità Doppio passo Ma chi è Fedez? Cambia per San Morleo Insiste però Il boss forte Insta Ma che il boss della tecnica È fortissimo Keeper Primo intervento della partita Percussione Del 4 del Bologna Il boss della tecnica Calcio l'angolo per Jaypata Fuori per il boss La palla schizza Buona per Kundispa Ripropone per Jaypata In area Jaypata Chiuso Ancora la Insta Keeper Fenomenale Ancora Jaypata San Morleo 1, 2 Soffre tantissimo La Juventus Che si salva Rimessa laterale Per il Bologna San Morleo Cerca il boss Colpo di testa Doppio ron Theo Torna a fare feed Veramente Poi ancora il boss Colla la buona Fallo di mano Calcio Theo Oppure fallo di mano Frate ma è disgustoso Di punizione dal limite Bologna Champagne Jay Parte Jaypata La palla Spizzica la traversa E finisce sul fondo Riparte la Juve Con Ma la Juventus è inguardabile L'errore La maschera Jaypata Tecnico Questi minuti iniziali Khinashi A battere C'è Campolunghi C'è anche Ron E poi Pipega Ron Tocca proprio per lui Duetta 9-7-10 Pipega Con l'esterno Fene ha capito tutto Voleva rubare Un tempo di gioco Primo tempo Boss Jaypata Niente ragazzi Anche in un video Della youtuber Summer Cup Riesce a voler Per forza Un po' di screen time Non bastano i video Di Gnabri Dove lui non dovrebbe Centrare un cazzo Anche qui te fa Tre esultanze Come Dusan Vlaovic Per essere ripreso Il 4-10 Attenti a quei due Un giocabile Un giocabile Con il pazzesco Con assist Jaypata E come sta andando Come Come te la senti No bene 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 Pata tanta roba Ragazzi ma palesemente È uscito da Temptation Island Il boss della tecnica Compagno come lui Comunque ti aiuta Tanto davanti Ci capiamo Basta uno sguardo Comunque ci capiamo Tecnicamente Ci sappiamo fare Quindi Bene dai Dai raga Attivi come il primo Pipega Jaypata Lo molla Pipega Ma chi è il portiere Perché sta Pipega va via E sta qui per dare un'opzione Boss della tecnica Ruba palla Porta vuota 2 contro 0 Jaypata la mette in porta Il boss della tecnica Lo aspettava lì 3-0 per il Bologna Ma ragazzi Ma che sto vedendo E se il secondo tempo Inizia così È un problema Pipega Va a battere il Fallo laterale La chiama Campolunghi Ancora Nico Controlla e guarda Nico torna La pipega Scambio Campolunghi Riesce ad arrivarci bene Forse è la miglior Palla gol per la Io Ma ragazzi Ma perché ci sta Perché ci sta Zeman Sotto mentite spoglie A questo punto Avevo già alzato la voce In modalità gol No è palesemente tipo il manager di Bove Ritiro tutto Evidentemente non è giornata In tutti i sensi il boss Cerca di fare una giocata da boss Il boss della tecnica sta mettendo pressione al boss del freestyle Cioè mi In aria c'è Capone Mi prego Almeno uno Ancora Nico Ma la Juventus Su è fortissima E' scarsissimo Per andare Il boss della tecnica Forse torna la Jay Pata Poker servito Ancora assist del 4 Ancora gol del 10 Come Anton e Becker Il boss della tecnica E Jay Pata Ah sì Il boss della tecnica Fortissimo Ma è un fenomeno E qui pega Il gol della maniera Lì Va col sinistro Muro Pega due volte Riesce a trovare il punto dell'1 a 5 Accorcia per Anche nel gol della Juventus Deve essere ripreso Pierino Che fa applauso del fair play Lo odio È assurdo Ma che fa Ma che È un'altra assurda Ammazza Che gol onzo Devo Va bene Devo fare cose Mi interviene Senza commettere fallo L'arbitro Consulta il cronometro Dice che va bene così Finisce 5 Ragazzi Mi immagino una lore Dove Tipo la lore di Goku E Broly E tipo il boss della tecnica E il boss del freestyle Il boss del freestyle E Goku Solo che piangeva sempre E allora Il boss della tecnica Non riusciva a dormire E lo odia Capito È una roba del G Una lore dove in realtà Sono nemici Ma poi diventano amici 1-1 per il Bologna Manita Travolgente 4 gol di Jay Pata 1 nel boss della tecnica A Corcia Nel finale Ma non basta Grande partita Bravi tutti Grande partita Bravi tutti Abbiamo il solito Problema di sempre Che ci manca Che c'ha 38 di febbre E c'ha un crociato rotto Ragazzi Un difensore Un difensore Ci manca qualcuno Che capisca il gioco Da dietro Che sappia muoversi Che conosca quel gioco Ho provato Ho fatto io il difensore Però i risultati Non sono stati ottimi 4 gol Tuoi Come ti senti Carico scommetto No sono contento Perché 4 come l'anno scorso Ho fatto una partenza Con 4 gol Quindi poi alla fine Siamo arrivati in finale Speriamo di arrivare in finale Magari vincerla Forza Inter Vaffanculo Le vai al cazzo Vediamo per la prima Il sorriso del ragazzino Mi fa Guarda come mi ha ambruttito Mi ha riso in faccia Una volta un mister Femile Rappresentare una squadra Come sconfiggi gli hater Con il sorriso Tu sei sempre stata Interista Sì Diciamo che Ho simpatizzato Da sempre l'Inter Non c'è J-Pata E ci sono diverse figure nuove Come pensi che la gestirà? Sicuramente J-Pata È una grande perdita Però abbiamo fratino C'abbiamo anche Gilbert insieme Quindi Non può farci male Quindi è un bene Non può fare male A voi Esatto Forse Come hai visto per ora La squadra Come hai visto il campo Come te la senti insomma Allora ragazzi sono carichi Daremo il massimo Fa un caldo Boia ragazzi No Troppo Troppo caldo Però Anche dal nord Faremo il nostro gioco Eh hanno fatto un po' di giri di Cosa? Icaru Nakamura Campo per acclimatare Ragazzi Gli ha i noob Gli ha i noob Ma che sto a vedere Ma che stanno grondando di sudore Ma davanti al massimo Gli ha i noob Ma che capello si è fatto Dile Sus Ragazzi il portiere della Fiorentina È una branda Allora ti ho chiamato qui a rapporto Perché il Verona La vera incognita Intanto questo torneo Allora mi devi dire come nasce la partecipazione Prima ti dico questa è la partita che mi interessa di più Anche perché 100 sab 5 sab Maestro Che oggi ho visto agitato Cioè il fratino col fratino È una cosa meravigliosa Sì Ragazzi fammelo vedere il Verona Mamma mia No dai Ma non si può vedere Attenzione Partenza incredibile Gnabry contro Federick Ma che fa Non è possibile Quelli sono due Blastoise Prima edizione PSA 9 e mezzo Pum 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 E niente Lo ferma Ripartenza Charizard Charizard PSA 10 Ed è gol Pazzesco Siamo stati contattati dalla società Che collabora con noi Per questa competizione Sì Ok Primo pallone per l'Inter Che ha 2 10 in campo Quello in possesso Di palla è Fratino Cerca Eccolo Gilberto in attacco Controlla e prova a passare Ovviamente Con il fratino vintere Per maglie Che potrebbero confondersi Soprattutto Perché è calata la sera Su Roma E c'è anche un minimo di aria Fortunatamente E questo è molto più bello del video Ebbè Pallone giocato su fratino Davanti per Gilberto Sombrero È andato Gilberto È andato Gilberto Si accende Da fenomeno Sombrero Oh Dio E poi che ti fa Ti fa Saluto Saluto Del Gilberto E poi ti ricorda Che sono usciti I nuovi diari Gilberto Sa assolutamente Da acquistare Fratino Che ci crede Sinistro Mostro Inter in vantaggio Ma che volta fa E poi ti fa Saluto militare E facciamo calcio Senza senso Senza senso Calcio 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 Andiamo 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 Let's go E E Gossi All in Gigi Appoggio Laterale Allora possibilità Per il Verona Che si distende Con il destro Piazzato Da parte di Fed Pallone che finisce Sul fondo Tocca di capelli In secondo Fratino Largo Come sempre intesa Con il Gilberto Lascia passare Il pallone E caccia Con il sinistro L'ha toccata Credo Vito No No dice di no Credo Che siamo agli sgoccioli Di questo primo tempo E infatti Collina sta consultando Il cronometro Fra poco Dovrebbe terminare La prima frazione Mi piace che sia ufficialmente Diventato Collina Meraviglioso Ormai L'hai detto tu Quindi io Ti vengo appresso E infatti Finisce il primo tempo Finisce 1-0 Per l'Inter Mazza piena di emozioni Stava questo primo tempo Senti Gilberto Per questo primo tempo Stai strascinando La tua squadra Stai strascinando Come si va In questo secondo tempo La prima cosa Voglio ringraziare Federico Marconi Il dottore Federico Marconi Per tutto Questo grandissimo Possibilità Che da tanti giovani Che di fai Ragazzi Questi sono 10 minuti Di chiacchiera Cose negative Sulla strada Se ritrovare qui Tutti insieme E se divertiamo Ringrazio la mia squadra Ringrazio il mio capitano Gnabri E ringrazio soprattutto Il mio vice capitano Frattino Per la pass decisiva Che mi ha fatto L'assist Che mi ha fatto E tutto questo lavoro Non è un lavoro Solo di Gilbert Gnabri È un lavoro di gruppo Perché abbiamo parlato L'importante Non è di fare gol Ma di giocare Un gioco di squadra Perché L'Inter Voi lo sapete benissimo L'Inter è un grandissimo squadra La sa Ti giuro Puoi anche Sta ferma È una roba allucinante E merite anche A livello della YouTube League O della ZoomCop Fai le corse Bene La ZoomCop Che cazzo è la ZoomCop Che cos'è Un nuovo supermercato Noi abbiamo le tifose Chi non lo lascia Mai Chi non si fa sempre E questo gol Voglio dedicare A mio padre Che è malato Di più Tre Tre anni Chi soffre tanto Papà Ci dedica questo bellissimo gol Abbiamo uno spam di cuore A luttare Non deve mollare Perché ci voglio bene Pensavo Pensavo parlasse Pensavo parlasse di me Un bello spam di cuore E grazie anche alla Sagna E attento papà Dice papà E perché la gente come noi Non molla mai E perché la gente come te Non molla mai Non sapeva come declinarlo Ballone nel secondo tempo Per il Verona Con Federic Ho visto la paura Per un attimo Pronto a battere Solo un gol Di distanza Bellissimo Ma è solo uno Quindi il Verona Ha la concreta possibilità Quanto meno Di strappare un punto E sarebbe già Un'impresa Titanica Non abbiamo ancora Un parigi Adesso ci prova Gilberto Prova andare Gilberto Tocca vicino Possibilità Con l'appoggio Per Fratino Scambio con Gilbert Come gioca lì Parlano la stessa lingua Gilberto e Fratino Palla per terra Tutto di prima Tutto bellissimo Più o meno La stessa lingua parla Non aveva detto Però Ti dico anche Però in quel caso Parlavano la stessa lingua Tra i passaggi Fratino Al suo esordio assoluto Adesso vedi Saluto l'onanzista Un youtuber summer cup Ah no Ok Un 5 Guarda Guarda come giocano Olè Bam Scarico Lì Agile Fratino Uscita E prende velocità È partito Isak Visto Altra parte Gilbert Sinistro Un crociato Gran parla Perché mi sembra Perché mi sembra Che Gilberto Il nano Ci abbia i piedi La carte Sono migliorati Mancino lo sanno Tocca vicino Sul danese Per verona Lo sa che deve Prova a fare gol Il tergicristallo Il tergicristallo Ma che termine Meraviglioso Ma basta Prova a passare Isak Ma questo Non so se è legale Dire tergista Bello Ogniabri Gnabri scippa Il pallone Prova ad andare da solo Poi si ferma Sterza Va da Fratino Che può piazzare Finto il tiro Torna da Gnabri Stop e destro Traversa La palla Strano Gnabri che piampalo Pazzesco Una carezza All'incrocio dei pali E finisce sul fondo E che sai Ti arrivano Gilbert Che oggi È super saian Fratino Gnabri Va in difficoltà Fallone laterale Lo va a battere Ranghi Sì Ranghi Sono un pazzito Gnabri 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 Gioca vicino Per Fratino Cerca la palla Dentro Grande gol Dell'Inter Eccolo Lo schema La palla Giocata per terra Con Raimondi Che sbuga da nulla Che è sempre più veloce Degli altri Grande Gol De Omiatol Firma il 3-0 E mi sa che la partita è andata Segnano tutti Giocano tutti Un gol E due assist Per quello lì Per lo Spiceboy Per Andrea Fratino Ha fatto 2-0 Ammazza come gioca L'Inter GG 3-0 Chi è? Palla avanti Palla indietro Palla mazza Bravi Finisce Anche questa terza gara 3 gol Dell'Inter Al Verona Piazza a fari Sua destra Ammazza Senza subirne Gran gol di Gilbert Che scarta la partita Che poi Viene chiusa Nel secondo tempo E come vedete in grafica Abbiamo anche il quadro Delle partite complete adesso Perché la seconda fase Vedrà in campo Frate Ti voglio bene Ma metti pure i punti A sto punto Zio porco Lazio contro la Fiorentina Il Napoli contro la Juve In una grande No ma da te Anzi O voglio vedere A velocità Tipo Sparata L'arbitro Che fa sempre La stessa mossa Aspetta Voglio vedere se mi fa ridere Perché sarà anche la finalissima Dei aiuto per lì Che poi Il Verona Contro la Juve Eccolo Sì lo so che è uscito Il seconda Eh